Vostra Maestà, Re del Regno Ascemita di Giordania, Su Altezza la Regina, Signor Presidente Emerito Napolitano, Signor Ministro Gentiloni, Signori Ministri, Signore e Signori tutti. La conferenza che oggi apriamo e della quale anch'io ringrazio il Ministro Elispi trae spunto da una idea molto forte, l'idea di ritrovare attraverso il dialogo una strada che ci consenta di superare la crisi del Mediterraneo, la crisi della nostra regione e di comprendere come tutti insieme possiamo finalmente costruire una stagione nuova, un percorso di sviluppo e di crescita diverso. In queste tre giornate 150 leader del mondo politico, economico e culturale provenienti da tutti i paesi dell'area ma anche dagli Stati Uniti, dalla Russia, dalla Cina, daranno il loro contributo alle sfide regionali e sulle possibili soluzioni di medio e lungo termine. Abbiamo scelto di promuovere una discussione al più alto livello, in un contesto però informale, non istituzionale, permettendo di far circolare le idee. Permettetemi di essere molto sincero, al limite della brutalità, l'Europa ha perduto negli ultimi anni una grande occasione, ha smesso di dare centralità e attenzione al Mediterraneo. Il processo di allargamento dell'Unione Europea è stato molto giusto e molto positivo, ma l'allargamento dell'Europa a Est ha visto incredibilmente scemare l'attenzione verso le grandi questioni del Mediterraneo, al punto che, lo dico con un'espressione che potrà suonare come una provocazione, l'Europa a 28 o è troppo o è troppo poco. E sotto questo profilo trovo assolutamente cruciale che i paesi partner di questa iniziativa possano discutere nel modo più libero possibile, perché anche su questo stiamo riflettendo, su un nuovo modello di concepire l'Unione Europea. Vogliamo dunque guardare oltre il contesto di crisi, la discussione del Mediterraneo soltanto come luogo di problemi, come luogo di crisi migratorie e cercare di riflettere insieme su come questa straordinaria aria del mondo, che ha dato civiltà e luce per tanti secoli, possa aiutare a costruire un nuovo ordine e una nuova idea di prosperità tra i popoli. Non possiamo negarci che neppure un mese dai brutali attacchi di Parigi, l'emozione, lo sdegno, la rabbia sono ancora protagonisti nella nostra vita quotidiana. Non è facile trovare la giusta strada nella risposta a ciò che è avvenuto, anche perché ciò che è avvenuto ha sicuramente scosso il cuore e le coscienze, in particolar modo dei cittadini europei, ma non è un fenomeno isolato. A Beirut, come ad Ankara, a Tunisi, come a Baghdad, come sul cielo dell'Egitto, tanti sono stati gli eventi drammatici di queste ultime settimane. Onorare le vittime è dunque un modo per restare umani, onorare le vittime è dunque la priorità, ma contestualmente scongiurare altre stragi è il grande interrogativo che viene posto di fronte alla politica. E non c'è alternativa a un'alleanza tra tutti i popoli del Mediterraneo e del Medio Oriente. Non c'è alternativa a un'alleanza che coinvolga le sorelle e i fratelli di tutte le fedi religiose, di tutte le estrazioni culturali, ebrei, cristiani, musulmani. Mi ha colpito nei giorni scorsi l'immagine di quell'attentatore solitario nella metropolitana di Londra, fermato dalle forze dell'ordine, e al quale si è rivolto un giovane, che si trovava a passare di lì. You are not Muslim, brother. Tu non sei musulmano, fratello, gli ha detto. Aveva ragione lui, perché colui il quale stava accoltellando non era né musulmano, né ebreo, né cristiano. Era innanzitutto un criminale. E se noi non siamo nelle condizioni di vincere con chiarezza questa sfida culturale, che viene portata da estremisti che usano la religione, i suoi simboli e i suoi dogmi per scopi nichilisti, non siamo in grado di assicurare un futuro alle nostre terre. In particolar modo, lo ribadisco oggi, in un contesto nel quale persino gli Stati Uniti d'America sono forse per la prima volta attraversati da un dibattito politico, nel quale questo argomento viene utilizzato ai fini elettorali. È un elemento che gli osservatori della politica più fini e più raffinati di me e sicuramente avranno avuto modo già di evidenziare nelle loro discussioni. Ma ciò che accade nel dibattito delle primarie negli Stati Uniti d'America, proprio su questo tema, non può essere derubricato a semplice spot per raccogliere consensi. È una negazione stessa dell'identità americana ed è un elemento che deve farci riflettere. Qui viene chiamata in ballo la dimensione alta e nobile della politica. Essere capace di vincere la demagogia elettorale a basso costo e indicare però una strategia che sia di lungo periodo. Non possiamo più affidarci a reazioni istintive, emotive e di breve raggio. L'Italia sotto questo profilo è in prima linea nel contrasto al terrore. Agiamo su diversi piani, quello politico, quello economico, quello diplomatico, quello di intelligence e di sicurezza, quello di cooperazione nel settore della difesa. Ma prima di tutto pensiamo che il ruolo dell'Italia sia affermare la radice profondamente culturale della sfida che stiamo vivendo. Si fanno facili ironie quando qualcuno di noi pone il tema culturale come centrale in questo dibattito. Siamo di fronte a dei kamikaze, sparano bombe, uccidono per le strade e tu poni il tema della sfida culturale? Sì, a Parigi hanno massacrato dei giovani che stavano andando a un concerto, che stavano assistendo a un concerto. A Parigi hanno ucciso delle persone che stavano in un ristorante. A Parigi hanno tentato di uccidere di fronte a uno stadio di calcio. I luoghi che sono luoghi della quotidianità e che sono simboli della nostra stessa identità. Non basta reagire con una marcia di sdegno e di solidarietà. Sono lieto di aver camminato a fianco di Sua Maestà il Re e di Sua Altezza la Regina a Parigi l'11 gennaio di quest'anno. E sono stato fiero di camminare insieme a tanti di voi verso il Museo del Bardo, a Tunisi, selvaggiamente attaccato lo scorso mese di marzo. Ma questa nostra marcia ha un senso se siamo in grado di prendere interamente su di noi la responsabilità che deriva da un attacco che è innanzitutto un attacco all'idea stessa della nostra cultura. A Tunisi al Bardo è un museo, in Kenya a Garissa è un'università, a Peshawara è una scuola, a Parigi è un teatro. Come da altre parti sono delle chiese, delle sinagoge, delle moschee. Stanno attaccando là dove comprendono che sta il valore più grande di quello che noi siamo, la nostra identità culturale. Ecco perché l'Italia, pensando a Palmira, e non soltanto a Palmira, ha promosso l'iniziativa dei caschi blu della cultura che proprio in queste settimane stanno prendendo corpo. Ed ecco perché l'Italia pensa che per ogni euro investito in sicurezza occorra un euro investito in educazione. Che per ogni centesimo messo in polizia occorra un centesimo messo in cultura. Che per ogni telecamera installata agli angoli delle nostre strade occorra investire nei teatri. E che per ogni porta blindata che acquistiamo per le nostre abitazioni dobbiamo spalancare la nostra anima e la nostra mente a ciò che di più grande viene dalla identità culturale che rappresentiamo. Perché la radicalizzazione è innanzitutto lo sbocco patologico a una crisi identitaria che non a caso è sofferta anche nei paesi europei. Pensare di poter contrastare il nostro avversario soltanto andandolo a colpire nei luoghi lontani da casa significa nasconderci la realtà che tutti gli attentati svolti in questo anno terribile 2015 in Europa hanno sicuramente avuto implicazioni e relazioni con centrali del terrore che sono sparse in tutto il mondo e particolarmente in alcune zone. Ma sono tutti attentati compiuti da cittadini cresciuti nelle nostre periferie educati nelle nostre scuole che hanno condiviso con i nostri figli le partite di calcio e che hanno camminato nelle stesse strade nelle quali si sono resi protagonisti di terribili atti barbarici. Tutto ciò naturalmente non significa dire che la cultura debba essere l'arma difesa della sicurezza nazionale. La cultura è innanzitutto pluralismo, è dialogo, è confronto, è appartenenza che diventa incrocio di esperienze. È un continuo e fecondo rapporto di contaminazione ma essa è il sistema immunitario di cui le nostre società necessitano contro la deriva del fanatismo. Questa sfida non sarà vinta in una settimana. Questa sfida non sarà vinta neanche in un anno. Questa sfida sarà la sfida di un'intera generazione. E non c'è arma più potente dell'educazione per poter vincere la sfida alla quale siamo chiamati. Dunque, la cultura mediterranea è ciò che ci accomuna. È una cultura di rispetto reciproco, di tolleranza, di ospitalità, di altruismo, di valore sacro dell'ospite. Di valore sacro dell'ospite. Per cui non potrete mai chiedere all'Italia di rinunciare a quello che è. Abbiamo bisogno di un quadro di regole che devono essere rispettate ma anche se questo dovesse costarci la perdita di voti non perderemo mai la nostra dignità. Ecco perché continuiamo con le nostre donne e con i nostri uomini a lavorare nel Mediterraneo per salvare anche solo una vita umana. E lo dico oggi, il giorno in cui sono emersi i dati dei bambini che hanno perso la vita nel Mediterraneo. Oltre 700 bambini. Non è che perché non ricordiamo il loro nome, come è accaduto al piccolo e povero Aylan, essi non muoiono più. Ogni giorno una strage costante lambisce le nostre coscienze. L'Italia continuerà a fare quello che può fare, anche se necessario prendendosi le critiche e gli insulti di altri partner dei paesi europei. Ma noi possiamo perdere dei voti, non possiamo perdere noi stessi e la nostra anima. Ed è per questo che pensiamo che la cultura come riferimento di orgoglio e il ricordo delle nostre radici è tutto ciò che di più grande possiamo offrire a questa discussione. Tuttavia, signore e signori, non vorrei sembrare poco chiaro sulle priorità che noi consideriamo assolutamente chiave nella fase che stiamo vivendo. Avviare la transizione in Siria, sostenere la stabilizzazione in Iraq, chiudere l'accordo politico sulla Libia sono i tre punti di riferimento. Tutto questo con un obiettivo chiaro, la distruzione di Daesh, che è l'assoluta priorità, e il combattimento che dall'Afghanistan fino all'Africa occidentale, dal corno d'Africa fino al Mediterraneo, assume nomi diversi ma è ugualmente unito dal principio di estremismo e di terrorismo. Il contrasto al Daesh. L'Italia fornisce un contributo di primo piano alla coalizione internazionale con un approccio multidimensionale. Guidiamo gli sforzi nel contrasto al finanziamento di Daesh assieme agli Stati Uniti d'America e ai partner regionali. Contrabbando di petrolio, flussi finanziari illeciti, transazioni finanziarie a favore di gruppi affiliati all'estremisti, persino il traffico di reperti archeologici, che è più piccolo come quantità, ma che costituisce il furto della memoria. Sempre in Iraq, dove Daesh continua ad essere attivo e pericoloso, siamo leader nei programmi di addestramento delle forze pesmerga kurde, attività che i nostri militari svolgono efficacemente a Derbil già dallo scorso anno. Sono orgoglioso delle donne e gli uomini che vestono una divisa italiana. Sono orgogliosi del loro spirito di dedizione, della loro tenacia, della loro competenza e della loro passione. Il loro lavoro inizia a portare i frutti, ma soprattutto restituisce a tutti noi il senso profondo dell'appartenenza e dell'orgoglio a dei valori che sono valori che sentiamo come irrinunciabili. Guidiamo gli sforzi internazionali per la formazione delle forze di polizia irachene e per la stabilizzazione delle aree liberate da Daesh, consentendo il ritorno degli sfollati alle loro case. Da tempo i nostri carabinieri, soprattutto, si trovano a Baghdad per formare le locali forze di polizia. Ma la storia, anche recente, insegna che gli interventi militari necessari non sono risolutivi se non inseriti in una strategia di lungo percorso. Da questo punto di vista è cruciale rafforzare la collaborazione con alcuni Paesi chiave della Regione nella consapevolezza che questa lotta è la priorità condivisa. In particolar modo, trovo cruciale rafforzare il rapporto all'interno dell'area del Libano, dove l'Italia ha il comando della missione Unifil, o è un contingente di oltre mille uomini. E naturalmente penso alla leadership straordinaria che, insomma, il re di Giordania sta esprimendo. Con il re Abdallah ieri abbiamo avuto l'occasione di un bilaterale e di una cena, scherzando, lo considero non soltanto un punto di riferimento a un amico, ma anche un free advisor, perché mi capita spesso di ascoltare i suoi suggerimenti e i suoi consigli. Voglio dire che le italiane e gli italiani devono sapere che quando pensiamo a dei numeri come ai numeri di profughi che arrivano nel nostro paese e ci sembrano un'enormità, pensiamo che il regno di Giordania, così grande per storia e per qualità, ma non grandissimo come numeri, ospita almeno sette volte i profughi che ospitiamo noi. E lo fa con una forza e una energia del quale la comunità internazionale dovrebbe essere molto più grata e riconoscente. La collaborazione internazionale va ulteriormente sviluppata. L'Europa e gli Stati Uniti condividono con Mosca l'interesse strategico di respingere l'espansione di Daesh e lo stesso vale per tutti i nostri alleati, per tutti i nostri amici, per tutti i nostri partner, per tutti i paesi che collaborano con noi. Tengo insieme volutamente dalla Turchia all'Iran all'Arabia Saudita convinto che vi sia la necessità per tutte e per tutti di lavorare rapidamente a una soluzione che abbia il respiro strategico e non sia soltanto una soluzione last minute. In questo senso la collaborazione tra i servizi di intelligence è cruciale. Non soltanto sul piano interno a cominciare dalla cyber security ma innanzitutto nello scambio di informazioni. Sarebbe interessante, non tocca a me farlo, sottolineare come l'Europa avrebbe potuto fare molto di più se negli anni 50 la discussione sulla politica comunitaria e la politica europea di sicurezza e di difesa avesse preso una piega diversa. Ma non credo che serva a nessuno piangere sul latte versato. Ciò che è priorità oggi, immediata, è quella di riuscire a combattere insieme le politiche per arrivare a ottenere delle politiche di deradicalizzazione dei foreign fighters di ritorno e naturalmente di contrasto costante a tutte le forme di criminalità. Dicevo come secondo punto il tema della ricerca di una soluzione politica in Siria. A Vienna, tavolo al quale l'Italia torna a partecipare, si stanno facendo dei passi in avanti. Senza uno sforzo internazionale per porre fine al conflitto, senza un futuro respirabile per il popolo siriano, Daesh troverà sempre un ambiente di cultura idoneo per riprodursi e per espandersi. Questa mattina assieme all'UNHCR e a una grande azienda italiana l'Enel abbiamo aderito a un progetto che permetterà a 20.000 bambini siriani di studiare in Siria. Circa 2 milioni di bambini hanno smesso fisiologicamente di andare a scuola nell'ultimo periodo. Se noi vogliamo vincere la sfida di una generazione non possiamo fare a meno della ripartenza dal punto di vista educativo. contemporaneamente però i nodi pendenti che hanno finora impedito l'avvio di un processo inclusivo e credibile vanno finalmente affrontati. Il ricambio nella classe dirigente politica siriana deve essere concordato all'interno di un processo di transizione ordinato evitando di creare un vuoto che sarebbe riempito ancora una volta dal terrorismo. In questo senso vanno gli sforzi del governo italiano. Infine la Libia. Daesh sta tentando di guadagnare più spazio in quella regione alla quale siamo così legati. Non si tratta dunque di un processo circoscritto a una sola parte del Medio Oriente a un solo specifico paese. In Libia Daesh sta cercando di sfruttare con ferocia e con cinismo oltre che con un'abile capacità comunicativa che ne fa appropriare anche di precedenti e pergresse situazioni territoriali e locali sta cercando di sfruttare con questo tipo di atteggiamento lo scontro tra fazioni e il progressivo disfacimento delle istituzioni statali. Sono grato al Ministro degli Esteri per aver promosso assieme al Segretario di Stato John Kerry a cui va la nostra gratitudine l'appuntamento che proprio in queste ore dovrà segnare un punto di svolta nella travagliata vicenda libica. Ho confermato intervenendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la disponibilità italiana a guidare una missione internazionale di assistenza addestramento e formazione a supporto del futuro governo una volta che esso finalmente verrà costituito. Non vorrei e mi avvio rapidissimamente alla conclusione che questi tre scenari di cui abbiamo parlato nascondessero almeno un altro triplice scenario in cui è necessario l'intervento delle forze che oggi si trovano a discutere di Mediterraneo. Lo tengo sullo sfondo non perché sia meno importante anzi forse è strategicamente ancora più grave e rilevante ma perché io credo che se saremo capaci di fare un buon lavoro in questi dialoghi poi sarà più semplice poter affrontare insieme queste tre priorità le indico soltanto la prima è l'area dei Balcani esiste un grande tema che non tocca soltanto l'Albania ma che arriva al Kosovo alla Bosnia e che è troppo spesso sottovalutato nel dibattito politico europeo vorrei che risuonasse chiara e forte la voce dell'Italia perché Albania e Serbia possano essere al più presto parte della grande famiglia europea e perché tutti insieme possiamo considerare priorità gli sforzi in questa parte di mondo la storia del ventesimo secolo ci insegna che da lì sono partiti conflitti difficili da bloccare il secondo tema è la grande questione africana possiamo affrontarla meglio se tutti insieme come paesi che stanno intorno al tavolo dei dialoghi mediterranei saremo in condizioni di discutere e di lavorare vorrei riconoscere all'ingegnere De Scalzi e a Eni un grande lavoro non soltanto nel settore energetico cheppure è decisivo anche a livello geopolitico dal Mozambico fino all'Egitto dal corno d'Africa fino ai paesi dell'Africa occidentale ma credo che sia fondamentale che questo nostro paese l'Italia abbia consapevolezza che la sua forma geografica ne fa naturalmente un ponte tra Europa e il continente che più di ogni altro avrà modo di crescere nei prossimi vent'anni trovo che sia cruciale non dimenticare sulla base di un'emozione istantanea le ragazze le bambine che sono nelle mani di Boko Haram trovo che sia fondamentale non dimenticare che quegli studenti uccisi in Kenya e a Garissa sono stati uccisi perché stavano studiando trovo che sia fondamentale sapere che l'estremismo in certe zone del pianeta cambia nome ma non ferocia e la priorità di una risposta europea e mediterranea sui temi africani è quanto mai opportuna terzo e ultimo punto di politica estera le nostre periferie ho detto di politica estera con una provocazione naturalmente ma trovo difficile che si continui a raccontare che i problemi del nostro grande continente derivino soltanto da agenti esterni è capitato anche nel dibattito politico italiano in alcune circostanze qualcuno ha proposto di chiudere Schengen ho domandato polemicamente e provocatoriamente perché non volete farli scappare? perché se ci pensate una parte rilevante degli attentatori e dei terroristi è cresciuta e si è abbeverata in Europa quando alcune periferie perdono il senso dell'appartenenza non siamo più di fronte a un problema urbanistico ma a un problema di politica con la P maiuscola ho dunque chiuso questa fin troppo lunga carrellata di partite che l'Italia sta cercando di affrontare lo stiamo facendo convinti come siamo che il Mediterraneo non è soltanto una questione da richiamare quando ci sono problemi legati all'immigrazione il Mediterraneo il mare Nostrum è qualcosa di molto più grande è il prolungamento del lago di Tiberiade avrebbe detto Giorgio Lapira è il luogo nel quale le civiltà sono cresciute vorrei che non fosse il luogo nel quale la civiltà perde se stessa come talvolta mi capita di pensare vedendo delle reazioni allucinanti di parti politiche rispetto a ciò che accade alle nostre sorelle ai nostri fratelli che stanno scappando dalla dittatura dalla violenza dal terrore trovo che sia cruciale che per rimediare agli errori commessi da una larga parte dei paesi che oggi hanno responsabilità ci sia bisogno da parte di tutti noi innanzitutto di riflettere con saggezza e con un orizzonte di medio periodo trovo dunque che ci sia bisogno di determinazione di perseveranza c'è bisogno di denaro sì ma c'è bisogno soprattutto di avere idee chiare su quello che avverrà l'Italia per la prima volta dopo anni torna a investire nella cooperazione internazionale l'Italia per la prima volta dopo anni sceglie di fare del Mediterraneo il cuore della propria politica estera la mia prima visita come presidente del Consiglio non è stata a Berlino non è stata a Parigi non è stata a Londra è stata a Tunisi cuore di quella primavera araba che ha segnato speranze e delusioni ma che vede oggi proprio la Tunisia paese partner e amico essere da un lato all'avanguardia e dall'altro paradossalmente la più esposta trovo dunque che sia cruciale che per tutte e tutti noi questo nostro appuntamento di dialogo sia un appuntamento nel quale poter ricordare che la grandezza di ciò che siamo stati corrisponderà alla grandezza di ciò che saremo soltanto se saremo in grado di affermare un'idea di lungo periodo capace di coniugare valori e sicurezza in una parola se saremo in grado di restituire alla politica il ruolo che le spetta grazie grazie a tutti